Gli sguardi attenti del pubblico abitué ai concerti della banda avranno sicuramente notato l'assenza di una colonna portante. Quest'anno ha infatti deciso di appendere lo strumento al chiodo e di andare in pensione, senza però smettere mai di sostenere i suoi colleghi. Infatti, questa sera è tra il pubblico ad applaudire. Egli ha dedicato la sua vita a vari generi musicali, ha suonato per tanti anni in banda il flicorno contralto e lo ricordiamo anche per la sua contagiosa simpatia. Io chiedo un caloroso applauso al grande Miro Lanzoni! Proseguiamo ora, sempre dal repertorio verdiano, con il coro dei mattatori, celebre tema tratto dalla traviata. A voi il coro dei mattatori, dirige il maestro Roberto Lupi. A voi il coro dei mattatori, dirige il maestro wantsciatto, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.